Ciao, sono Emiliano Galli dell'Agenzia Immobiliare Maxi d'Alcase. Oggi sono in Via Poteri Fiume 48, in una palazzina di recente costruzione del 2010 e quello che ti presenta è l'appartamento Stella Polare. È un appartamento al quarto ed ultimo piano, ovviamente tutto molto recente perché è una costruzione del 2010 e c'è anche una soffitta di proprietà al quinto piano raggiungibile con con l'ascensore. La casa ha una vista e un terrazzo sicuramente molto belli che adesso andremo a vedere, è un bilocale quindi c'è entrando questo soggiorno con angolo cottura, eccolo qui, che è abbastanza spazioso, è stato poi fatto questo piano per i cassetti, faremo un biletto e il piano di appoggio, il soggiorno che è ben distribuito con questo tavolo e la zona living tv e questa bellissima vetrata da cui entra anche abbastanza luce e perché è vero che l'esposizione è a nord ma sulla destra dove sto inquadrando in questo momento sorge il sole e sulla sinistra da quel lato c'è il tramonto. Lo spazio esterno è come ripeto uno dei punti di forza probabilmente di questa casa perché come vedete loro utilizzano con un tavolo, un salottino, c'è un armadio a muro esterno e da quest'altra parte c'è un'altra risica dove sono stati messi un'altra sorta di ripostigliatura. Rientriamo adesso nella casa e vi accompagno a vedere il bagno e la camera da letto. Andiamo nella zona notte e che è ben disimpegnata, qui c'è anche questo angolo che è abbastanza utile perché è stata creata questo angolo lavoro, libreria, può essere fatto un armadio a muro, una scarpiera. Il bagno con la vasca completo con i sanitari, la finestra e poi la camera da letto che ha la seconda uscita verso il terrazzo e è una camera da letto abbastanza spaziosa. Quindi ricapitolando siamo in via Poteri Fiume 48 al quarto ed ultimo piano di una palazzina del 2010 quindi di recente costruzione e c'è un soggiorno con angolo cottura, camera da letto bagno, un angolo studio che è questo qui dove può essere fatto anche un armadio a muro, il terrasso di circa 30 metri e la soffitta. Per maggiori informazioni non esitate a contattarmi. per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente Remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!